Il centro industriale del Casentino è Bibbiena, terra soprarno molto amena. Posta su una lieve collina, offre al turista proveniente da Firenze il caratteristico sfondo del Monte della Verna. Questo invece è l'aspetto che Bibbiena presenta a chi giunga da Arezzo. Dall'antico ingresso detto Porta dei Fabri, ben conservato malgrado i secoli, si giunge alla pieve. Nell'interno della chiesa è custodito questo pregevole trittico di maniera giottesca. Eccoci ora in Piazza Grande. Fanciulle in allegra compagnia con le mezzine lucenti convengono alla fonte, mentre i rintocchi del campanone giungono abituali alla gente bibienese. Questa austera torre dei Terlati del secolo XII, unitamente al signorile Palazzo Dovizzi del 1500, di raffinata architettura, dominano in Bibiena. Visse qui il cardinale Dovizzi, detto il Bibiena, figura originale e grandiosa che interessò artisti e poeti. Raffaello ne fu amico tanto che volle ritrarlo. Ci sia permesso rilevare che Vanto di Bibiena è questa scuola per ufficiali radiotelegrafisti. Uomini che per mezzo delle onde marconiane possono salvare in molte calamità vite umane che altrimenti andrebbero perdute. Mentre i segnali radio continueranno a chiedere soccorso come un tempo i rintocchi di questa campana, volgiamoci ad un altro centro casentinese. Grazie. 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 Grazie.